Quali sono le sue impressioni sullo IAB Forum di quest'anno e sui dati di mercato che sono stati dati? Le impressioni sono positive, sono in linea con quello che ci si aspettava, le impressioni sul IAB Forum, fino adesso direi che c'è una novità importante rispetto agli altri anni, che è una presenza internazionale di grande rilievo, che è stato Chris Anderson, l'incontro che c'è stato con UPA e Asso Comunicazione insieme a Riccardo Luna, direi che è stato interessante vedere il feedback che hanno dato Asso Comunicazione e UPA e come ha reagito Riccardo Luna e la platea alle loro risposte. Il mercato dell'advertising, diciamo che secondo me, come si è detto e ripetuto durante tutta la mattinata, siamo ancora veramente indietro, quindi i dati relativamente di crescita sono rilevanti, ma rispetto al resto del mercato europeo siamo veramente un mercato indietro, quindi questo è il mio punto di vista, abbiamo ancora tanto da fare. Un gruppo Finelco che ha sviluppato recentemente delle applicazioni mobile, sta sviluppando sempre di più una strategia di distribuzione dei contenuti sulle differenti piattaforme, quindi ha realizzato le attività su iPhone, ha sviluppato le applicazioni per Android e iPad e sta come obiettivo legato alla strategia di marketing e di conseguenza anche commerciale distribuire i propri contenuti su più piattaforme possibili per dare la possibilità ai utenti di essere sempre a disposizione, contenuti sempre a disposizione ovunque e quando si vuole per gli utenti. Per quanto riguarda la parte dei social media, direi che vedo molte aziende che hanno reagito come per quanto riguarda la parte di iPad, quindi lo sviluppo delle applicazioni iPad, con molto entusiasmo, diciamo che bisogna, credo che ci sia necessaria una consapevolezza in termini di che cosa si vuole fare sul mondo dei social media e che aspettative si hanno. Quindi vedo che ancora anche da questa parte c'è grande lavoro da fare e visto la tipologia di lavoro, di comunicazione sui social media, le aziende credo che debbano essere accompagnate dalle società specializzate che sanno fare bene questo lavoro. Per quanto riguarda il mobile, direi che è il primo strumento, il primo device che noi guardiamo quando ci svegliamo è l'ultimo prima di addormentarci, quindi diciamo che quello che abbiamo sempre con noi ha la più alta penetrazione sulla popolazione italiana, quindi direi che è il fondamentale per i prossimi anni ed è un mercato molto in crescita, direi che il mercato più in crescita anche se in valori assoluti ancora è molto molto basso.